La 28esima edizione del Fano International Film Festival si aprirà martedì 18 ottobre per concludersi sabato 22. I luoghi della manifestazione sono il Teatro della Fortuna, la Sala Verdi e quest'anno per la prima volta abbiamo aperto alle sale pubbliche. Siamo al Cinema Malatesta e al Cinema Politeama di Fano. Tante le novità che quest'anno ci aspettano, notevolissime, di una mostra dedicata ai 20 anni della scomparsa di Marcello Mastroiani, quindi un ricordo all'autore più amato e più importante del 900 cinematografico italiano e poi ai 60 anni dall'Oscar di Anna Magnani, vale a dire l'unico Oscar che Anna Magnani ebbe ma non ritirò e qui poi ci sono delle cose da raccontare in un convegno che faremo a livello nazionale durante il festival. I grandi film che sono pervenuti, oltre 1000 e ne abbiamo selezionati soltanto una cinquantina, 200 quelli della sezione scuola, 50 quelli dei autori marchigiani, circa 80 le tesi di argomento cinematografico, tesi di laurea importantissime, quindi il cui premio potrebbe essere, chissà anche, la pubblicazione ufficiale con un editore importante. Chi vuole ovviamente saperne di più c'è un programma, ci sono già tutti i vincitori nel nostro sito www.fano-filmfestival.it, la pagina facebook è info-fano-filmfestival.it e qui ci avranno tutti i dettagli per il programma e, ripeto, per sapere chi ha vinto. Poi ci sarà anche un catalogo, l'ingresso a tutte le manifestazioni è libero. Grazie, arrivederci, in attesa appunto di vedervi dal 18 al 22 ottobre. Grazie a tutti.